Ciao! Benvenuti a un altro tutorial per Halloween Oggi sono qui con Annabelle La bambola assassina Come abbiate Spero abbiate capito E niente vi lascio il trucco Io spero vi piaccia E ci vediamo al prossimo video per Halloween Attenti che mentre dormite Verrò nei vostri sogni E vi taglierò la gola Inizio coprendo le mie sopracciglia Con della colla Prit Stick Quindi vado a pettinarle E ad applicare la colla In diversi strati Fino ad appiattirle Dopo aver applicato il primo strato di colla Mi aiuto con una spatolina E faccio lo stesso anche sull'altro occhio Adesso inizio a colorare Sto applicando un colore in crema Dalla mia palette Supra Cryolan Questo color bianco Potrete prendere qualsiasi colore in crema bianco E lo sto applicando nei punti Che vogliamo illuminare Quindi al centro del fronte Naso, sotto gli occhi E sul mento Adesso sto coprendo le mie sopracciglia Con del correttore Dalla mia palette Cryolan Di correttori E andiamo ad applicare Il correttore Con un pennello a stetole piatte E poi a fissarlo con della cipria Sto usando la Prep & Prime della MAC Adesso passiamo alla base Vado ad utilizzare Il fondotinta della MAC Sfactor Lasting Performance Nel numero 100 Lo applico su tutta la parte Del stante del viso Che non ho illuminato Con un pennello duo fibre E il colorito di Annabelle È alquanto pallido Tendente verso il verde grigiastro Perché è appunto una bambola vintage E io tenterò di ricreare questo colorito Dopo aver applicato la base Quindi anche sugli occhi Vado a mischiare questi due colori Dalla palette Cryolan Che è questo verde militare E bianco Dopo averli mischiati sulla mia palette Uscirà questo colore E con la spugna che io chiamo spugna magica Utilizzata per effetti speciali Lo vado ad applicare ai lati della fronte Sulla parte alta delle guance Ai lati del naso E sotto la mascella E anche sul collo Adesso vado a cancellare A correggere i bordi delle labbra E vado a fissare il tutto Sempre con la cipria Prep & Prime di MAC Che è una cipria trasparente Sto applicando adesso Sempre dalla palette Supra Cryolan Del marrone E lo vado a tamponare In diversi punti del viso Questo ci aiuterà a rendere Il tutto il trucco più tridimensionale Perché come dico sempre Ricordatevi di utilizzare Almeno tre colori Per dare appunto L'effetto di tridimensionalità Perché utilizzando solamente un colore Risulterà tutto molto piatto e finto Dalla mia palette di ombretti Screen Face Sto utilizzando questo ombretto Grigio opaco Per definire I contorni del viso E andare a creare Questo finto sorriso Della bambola Quindi parto ai lati del naso Ed estendo la linea Come se fosse un semicerchio Quindi la porto verso Il centro delle guance Arrotondandole Vado a sfumare Con un pennello da sfumatura Per rendere il tutto più soft Andiamo a creare queste altre linee Ai lati del viso E come se fosse quasi un rombo La forma che vogliamo creare Per dare appunto L'effetto di questo finto sorriso Sto usando sempre Lo stesso ombretto E adesso vado a creare Delle ombre Anche al di sopra degli occhi Seguendo la mia forma Delle sopracciglia nascoste Partendo dall'angolo interno dell'occhio E per far questo Mi sto riferendo sempre A una foto della bambola Che ho sul mio computer Vado a creare del contouring Sempre con l'ombretto grigio Opaco Mischiato a del nero Sotto la mascella Un po' sul collo Vado a dare più definizione Sto usando un pennello soffice Da contouring Ai lati delle tempie E adesso andiamo a dare Un po' di ombra Anche al di sotto del naso Con un pennello da sfumatura Più grande Vado ad aggiungere del nero Nelle linee già create E vado a sfumare il tutto Adesso passiamo alle sopracciglia Sto utilizzando il color nero Da face painting Della paletta acqua coral Di Kryolan E le vado a dipingere Con un pennello Sottilissimo d'eyeliner Questo è il 210 della MAC Sempre dalla palette supra della Kryolan Ho preso questo colore In crema marrone E con un pennello duo fibre Vado ad aggiungere dei dettagli Intorno al viso Per dare l'impressione Della bambola vintage O un dipinto Per rendere gli occhi più grandi Quindi come una bambola Vado ad applicare questa matita bianca Della MAC Nel colore fascinating All'interno dell'occhio E portandola anche leggermente Al di sotto Per gli occhi Sto usando il black track Della MAC Su un pennello angolato Vado a tracciare questa linea Al di sotto dell'occhio E la sfumo Con un pennello da sfumatura Adesso prendo Il colore nero da face painting Che è di questo nero intenso E lo applico Con un pennellino Sempre da eyeliner Sempre quello utilizzato prima 210 di MAC Vado a delineare La linea esterna dell'occhio E a dipingere 4 ciglia Nella parte inferiore Tentendo appunto Di riprodurre La foto della locandina Sempre con il black track Di MAC Vado a tracciare La forma Sulla parte anteriore Dell'occhio Che è una forma Quanto rotonda Quindi dopo una volta Aver tracciato la forma rotonda Vado a colorare il tutto Sempre con il black track E al di sopra Per fissarlo Perché è un prodotto Appunto in gel e in crema Vado ad applicare Dell'ombretto nero opaco E a sfumare il tutto Con un pennello Da sfumatura A punta Con una salviettina imbevuta Vado a pulire i bordi Degli occhi Per farli risultare Più rotondi E a colorare La parte pulita Con del fondotinta Sempre con il colore Da face painting nero Vado a disegnare Le ciglia Sulla parte anteriore Dell'occhio Sulla parte superiore E effetto Lo stesso procedimento Sull'altro occhio Applico l'eyeliner bianco Dell'aila masca Nella parte esterna Dell'occhio Nell'angolo esterno Perché nella locandina Del film Si vede appunto Questo spazio Tra la parte superiore E inferiore Vado a piegare le ciglia Ed applicare un mascara E come ciglia finte Vado ad applicare Le numero 35 Della MAC Passiamo al blush Sto utilizzando Questo blush fucsia Della MAC Con un pennello rotondo E dopo averlo sfumato Vado ad applicare Un altro blush rosso Al di sopra Per rendere tutto Più tridimensionale Sfumiamo ben bene I due blush Adesso sempre con il pennello D'eyeliner E il colore Da face painting nero Vado a disegnare Le crepe della bambola Ne ho una sul collo Una sul mento Infine prendiamo Questo ombretto marrone Sempre opaco E andiamo ad intensificare Le linee che abbiamo seguito Sul viso Passiamo adesso Alle labbra Che sono alquanto appuntite Al di sopra E lunghe Verso l'esterno Sto usando La matita cherry Della MAC Vado a disegnare I bordi E a riempire Tutte le labbra Con questa matita E al di sopra Applico il rossetto Della colistar rosso Utilizzo sempre Il black track Della MAC Per tracciare I bordi Delle labbra Con del nero E vado a sfumare Il tutto All'estremità E anche al di sotto Con il sangue addensato Della makeup Scab Vado a Farmi dei graffi Sulla guancia Con una spugnetta Nera E anche sul naso Perché appunto Nella locandina Si può vedere Una guancia Della bambola Graffiata a sangue C'è anche una lacrima Che esce da un occhio Di sangue E un po' di sangue Sulle labbra Vado ad applicare Una frangia finta Per riprodurre I capelli Della bambola E vado a Pettinare i miei capelli E a dividerli In due trecce laterali Aggiungo un po' di sangue Anche all'interno Delle labbra Per rendere Il tutto più disgustoso E questo È l'effetto finito Io spero che il video Vi sia piaciuto E se è così Mettete pollicelli in su Condividetelo Sui social media E cosa più importante Per me Non dimenticate Di iscrivervi al canale Un bacio Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao